Tira aria pesante sulla vicenda Porto Rifugio di Gela ed in particolar modo sul mancato inizio dei lavori di dragaggio. Ieri ai nostri microfoni il vice sindaco Simone Siciliano aveva detto che l'amministrazione comunale è attiva e non c'è alcun ostacolo. Si sta lavorando per chiudere positivamente la vicenda. Non è dello stesso avviso il Movimento 5 Stelle che chiede la testa di Siciliano, invitando il sindaco a sollevarlo dall'incarico perché, dice una nota, si è dimostrato inadeguato e non capace a perseguire l'iter autorizzativo procedurale di un progetto di pubblica utilità. Secondo Grillini, la giunta comunale sembra interessata solo al declassamento del porto di Gelada-Sin, sito di interesse nazionale, Assir, sito di interesse regionale, ottenendo così minori garanzia, tutela del territorio e maglie più larghe per opinabili interventi di riconversione. Ed è per questo, sostengono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che l'amministrazione comunale non ha fatto partire alcun iter autorizzativo riguardo il progetto dei lavori di dragaggio del porto rifugio che giace ancora alla protezione civile. Durante l'ultimo incontro, scrivono in una nota i consiglieri ventastellati, tenutosi lo scorso 24 agosto in consiglio comunale, dove erano presenti anche il tecnico del Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana, l'ingegnere Calafato, il tecnico del Genio Civile, ed esponenti della politica locale, tra cui diversi consiglieri comunali, il Vice Sindaco, dopo essersi fatto attendere, ha esordito affermando di non comprendere l'oggetto della riunione e soprattutto l'esigenza della sua convocazione. A questo suo inspiegabile supporto ha poi giunto che la responsabilità della dilatazione dei tempi nell'iter procedurale è da debitarsi al Dipartimento della Protezione Civile e non certo dell'amministrazione, nel più classico degli scarichi a barire. Pochi attimi dopo però smentiva se stesso, affermando che non c'era alcun ritardo e che tutto procedeva con i giusti tempi, ribadendo che firmare o meno il protocollo non inficiava l'iter autorizzativo. Le affermazioni del Vice Sindaco Simone Siciliano sarebbero però state smentite dall'ingegnere Calafato, il quale ha dichiarato che la Protezione Civile non può procedere in assenza di una copertura finanziaria dell'intervento. Il Movimento 5 Stelle di Gela, tramite il consigliere Virginia Farruggia, ha rilevato le lamentele della Protezione Civile, evidenziando che sembrerebbe esserci una volontà del Vice Sindaco di dilatare i tempi per poter dire che la responsabilità dei periodi lunghi deriva dal fatto che il Porto di Gela è un sito di interesse nazionale. Obiettivo dell'amministrazione sarebbe invece, secondo 5 Stelle, quello di arrivare al riconoscimento SIR, sito di interesse regionale, ma secondo il gruppo consigliare Pentastellato, questo aggraverebbe ancora di più la situazione del Porto perché allungherebbe ancora di più i tempi di presentazione del progetto e provocherebbe la perdita dei fondi che il Governo nazionale può stanziare per il Comune di Gela e per il suo risanamento. Fondi ricevibili solo sullo stesso rimarrà sito di interesse nazionale.